La nuova Pescara nel 2027 rischia di portare all'affossamento il progetto di fusione del capoluogo con Montesilvano Espoltore. Lo dice senza mezzi termini il consigliere comunale Carlo Costantini che critica il progetto di legge passato poche ore fa in Consiglio regionale. Concretamente quello che accadrà tra due anni e due anni e mezzo non lo possiamo immaginare. Io non escludo anche la prospettiva di un sabotaggio, di un affossamento definitivo del progetto. Tre anni sono un tempo siderale per la società del nostro tempo, tre anni fa non c'era il Covid. Immaginiamo che cosa possano rappresentare oggi tre anni, è un tempo che non trova una giustificazione logica, che i cittadini e gli elettori non possono assolutamente comprendere e che dal mio punto di vista aumenta anche il distacco che già si registra in occasione delle elezioni tra istituzioni, amministrazione pubblica e cittadini che giustamente non vanno a votare. I cittadini votano un referendum, definiscono uno scenario che dovrebbe realizzarsi in breve tempo, si arriva vicinissimi alla meta e alla regione che fa, dice no abbiamo scherzato, ci servono altri tre anni di tempo. Per Costantini la possibile unificazione di alcuni servizi prima del 2027 non risolverebbe certo il problema del grosso ritardo. È uno specchietto per la lodole quello dell'accorpamento dei servizi, è una soluzione che è stata presa esclusivamente per dare un senso logico ad un rinvio che un senso logico non ha, prenderanno tre funzioni, tre servizi che magari sono i più facili da mettere insieme, quelli per i quali il rischio di dividersi è più basso e proveranno a metterli insieme, ma il fatto che li mettano insieme prima di febbraio, prima di settembre di quest'anno non vorrà dire che poi tra tre anni resteranno effettivamente insieme. Dal mio punto di vista è un rinvio senza un limite di tempo preciso, un rinvio che serve esclusivamente al centro politico e un rinvio che purtroppo allontana drammaticamente il risultato voluto dai cittadini.